Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video della Tututech. Oggi, come promesso, non ci dimentichiamo di coloro che hanno Google Home. Quindi, per il nuovo prodottino che abbiamo configurato e installato con Alexa, lo andremo a fare con Google Home. Certo. Specifichiamo che non facciamo vedere tutta la parte che riguarda l'applicazione sensivo perché i passaggi sono quelli. L'unica cosa che faremo adesso è prendere quella che è l'applicazione sensivo, andarla a riportare sulla app Google e fargli riconoscere semplicemente la skill, passatemi il termine, e quindi i comandi che si possono dare. Giusto. Quindi, detto questo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi cariceremo un video. e di lasciare un bel mi piace. E poi lasciate anche un mi piace, tanto non vi costa niente. Ma prima di tutto questo... Biccatevi la nostra nuova... Sigla! Sigla! Perché è più soft, capis? Non è più pompata come prima. È più... Entriamo nell'app Google Home. Ci è comparso l'invito a fare il collegamento direttamente a sensivo in alto. Ogni qualvolta avete un nuovo dispositivo, vi comparirà un tasto di scelta rapida in alto, quindi a questo punto noi ci clicchiamo sopra. Qui basterà semplicemente mettere dentro tutte le indicazioni che avete messo, il login che avete fatto con sensivo. Facendo uno scroll ci ha trovato il nuovo dispositivo. A questo punto dobbiamo configurarlo. Quindi fleggate sala dispositivo, termostato, tasto in basso avanti, naturalmente la casa è sempre quella, facciamo ancora avanti. Qui ci dice dove lo avete posizionato. Io l'ho messo nella camera matrimoniale. Una volta selezionato e flegato, tasto in basso avanti ed eccolo qui. Ce l'ha trovato. Insieme al dispositivo Google Home abbiamo anche il tasto sala. Entrando dentro ci dice che il climatizzatore in questo momento è spento. Ci ha impostato una temperatura di 22 gradi e mezzo. Google Home ci dà anche la possibilità di dire lo vuoi accendere, ma come? In che modalità? Freddo? Caldo? Noi proviamo a dirgli freddo. Adesso impostiamo la temperatura facendola scorrere. Adesso andiamo a cambiare il nome del dispositivo e lo chiameremo anche qui climatizzatore. Ci basterà semplicemente cliccare sulla rotellina in alto a destra e dove c'è scritto nome ci clicchiamo, clicchiamo di nuovo, cancelliamo e lo chiamiamo climatizzatore. Fine. Ricordatevi di cliccare sempre e di salvare col tasto salva in alto a destra. Torniamo indietro e adesso come potete vedere è chiamato climatizzatore. È stato rinominato. Facciamo la prova. Ok Google. Accendi climatizzatore. Certo. Accendo il dispositivo climatizzatore. Ok Google. Spegni climatizzatore. Va bene. Spengo il dispositivo climatizzatore. Facciamo una prova anche della temperatura. Ok Google. Accendi climatizzatore. Certo. Accendo il dispositivo climatizzatore. Ok Google. Climatizzatore. Freddo. 25 gradi. Ok. Imposto il dispositivo climatizzatore su 25 gradi. Google sempre più una sorpresa. Insomma non che con la nostra amica sia stato difficile assolutamente. No assolutamente no. Però il tastino di scelta rapida è bellissimo. Cioè ti probabilmente ti installa già la skill diciamo. Poi ti rimanda subito al collegamento dell'app del sito di Sensibo. Inserisci i credenziali. Tata fatta. No la cosa bella è che con quella scelta rapida. Se voi rientrate nel periodo estivo. E sapete che naturalmente utilizzerete il climatizzatore sul freddo. Voi impostate semplicemente su freddo. Dopodiché la temperatura gliela variate. Lui agirà sul freddo. Per chi ha la pompa di calore. Utilizzerete caldo. E quindi quando darete il comando di temperatura. Lui agirà sulla pompa di calore. Il fatto di poter configurare in quel modo da Google. Il climatizzatore. È molto comodo. Perché sì. Dovrete fare due volte all'anno questa opzione. Ma poi per il resto siete totalmente autonomi. Che dire. Funziona benissimo con Google. Anche lì reattività massima. Sì assolutamente. Ottima anche la linea di tiro. Passatemi il termine. Il sensore manda tranquillamente il segnale. Naturalmente se avete una parete non la oltrepassa. Però diciamo che con qualche ostacolo non fa tanto. Se oltrepassasse mi preoccupa. Sì. Perché se oltrepassa il muro. Potrebbe diventare cancerogia. Sì diciamo che ci facciamo le radiografie. Esatto. Beh comunque ragazzi. Detto questo non vi rubiamo altro tempo. Vi invitiamo a cliccare qui sotto nei link. Se per caso volete acquistare anche voi questo prodotto. Vi lasciamo qui sotto insieme a tanti altri link che vi consigliamo. Per l'acquisto. Che vi collegano direttamente ad Amazon. Basta ragazzi. Questo è quanto. Speriamo di essere stati chiari. Se avete dubbi naturalmente. Vi invitiamo a lasciare un commentino. E che dire. Al prossimo video. Ciao ragazzi.